Allora, io inviterei la professoressa Sabina Machetti, Università per Stranieri di Siena, che anche rappresentanza del Rettore, l'amico Massimo Vedovelli, è qui fra noi e affronterà i temi collegati al ruolo che l'Università per Stranieri di Siena ha avuto nel Master, che è un ruolo tanto importante quanto specifico, anche perché ha aggredito un profilo della nozione e delle pratiche di partecipazione poco frequentato, anche se spesso evocato, vale a dire che è l'importanza del linguaggio, dei linguaggi e quindi delle forme di comunicazione interna ai vari noveri di attori che possono alternarsi nei processi. Non so se l'ho detta adeguatamente bene. Io ringrazio in particolare Sabina per l'impegno che ci ha messo, ma anche Massimo Vedovelli, perché l'esperienza del gruppetto di studenti che ha frequentato questo modulo mi risulta stata un'esperienza molto positiva, fra l'altro a contatto diretto con altri fruitori e utenti delle vostre attività formative a questo livello, il che ha creato una commistione proficua. Grazie molte. Sì, sarò brevissima, però non posso esimermi da portarvi saluti non solo del nostro Rettore, Vedovelli, ancora per una ventina di giorni. Sarà felicissimo. E ovviamente di tutta l'Università per Stranieri. Inizio anch'io con una frase letta in treno, non così dotta come quella che ha ricordato Massimo, viene da Repubblica, quindi è, in quali, anzi una domanda, in quali condizioni di salute intellettuale è una comunità nella quale le parole perdono inesorabilmente il loro significato? Perché inizio con questa domanda? Perché è un po', diciamo, con la volontà, con l'intento anche di dare una risposta a questo interrogativo che è nata questa parte di modulo senese. Come tutti sapete, noi siamo specialisti di lingue, di contatto linguistico e quindi ben volentieri abbiamo risposto all'invito delle altre università, dei colleghi, nel proporre una riflessione sulla lingua e sull'importanza della lingua e soprattutto del suo uso ai fini della partecipazione nelle politiche. Quindi, all'inizio devo dire, per noi è stata anche una sfida l'essere inseriti in questo modulo, non tanto per il tema, ma anche perché ci siamo sentiti da subito obbligati a dare una risposta ai nostri colleghi linguisti che ci hanno subito chiesto ma che cosa centriamo noi in un processo sulla partecipazione nelle politiche? E in questa risposta, quindi, abbiamo cercato subito di capire come la lingua e il parlare e lo scrivere, quindi quello che De Mauro dice essere molto di più che un mettere insieme parole, no? Processi, quindi, che equivalgono a costruire e proporre testi adeguati al contenuto che si vuole o si deve trasmettere a determinati interlocutori in vista di certe finalità, quindi vedere come il parlare e lo scrivere in maniera chiara potessero un po' aiutare la partecipazione nella politica e potessero soprattutto aiutarci a capire cosa nella partecipazione nelle politiche e che cosa più in generale nella nostra vita all'interno delle democrazie moderne ostacolava la partecipazione. È stato un percorso abbastanza complesso, devo dire che, insomma, personalmente posso dire di essere molto soddisfatta dall'andamento del percorso perché la risposta è venuta subito a questi interrogativi da parte di coloro che hanno partecipato. Alcuni di questi sono presenti questa mattina, purtroppo avevo invitato a venire con me altre persone che vivono poi queste tematiche in prima persona, amministratori pubblici che in maniera volontaria da auditori hanno partecipato con entusiasmo al nostro modulo e anche qualche dirigente scolastico che purtroppo non ha potuto intervenire questa mattina. Ma, ripercorrendo un po' i contenuti, velocemente, appunto, dicevo all'inizio, il nostro percorso è iniziato, diciamo, cercando di andare a capire da dove nasce nelle nostre democrazie in Italia il rischio dell'incomprensione. Quindi siamo partiti, abbiamo avuto anche un intervento del professor De Mauro su una riflessione sulla condizione linguistica della società italiana attraverso anche una rilettura delle vicende linguistiche che hanno riguardato la nostra società dall'unità del Paese ai nostri giorni. Abbiamo affrontato anche temi riguardanti la comprensione e la facilitazione linguistica sia in ambito istituzionale, guardando soprattutto all'ambito delle pubbliche amministrazioni, sia nei contesti educativi, con particolare riferimento alla scuola e poi, con un po' di coraggio, abbiamo anche cercato di inserire nel modulo due, diciamo, tematiche di confine, anche per noi che ci occupiamo di lingue. Il rapporto tra lingua e economia, quindi andando a vedere come le lingue, ecco, in un contesto di partecipazione attiva alla vita democratica e alla democrazia di un Paese potessero in qualche modo essere dei veri e propri incentivi per lo sviluppo economico di un Paese e poi anche andando a vedere come le lingue nella loro pluralità potessero essere organizzate e soprattutto potessero essere visibili rispettando questa pluralità all'interno di quelli che alcuni colleghi linguisti chiamano spazi linguistici urbani. È stato un percorso molto denso, a volte anche nel nostro caso forse troppo compattato, che meriterebbe di essere sviluppato, ma come ho più volte detto, molto interessante. Forse qualcuna delle persone che hanno partecipato alla parte del modulo senese ha voglia di riferire qualcosa di... Va bene. Mi ringrazio. Grazie molto. Io mentre ringrazio l'assessore Dario Danti del Comune di Pisa, l'assessore della partecipazione, spero magari che possa trattenersi in modo che se un pomeriggio vuole darci un suo contributo riflessivo... Mi sentite? Io volevo ringraziare l'assessore Dario Danti del Comune di Pisa, che è l'assessore della partecipazione, augurandomi che possa trattenersi per il pomeriggio, se eventualmente poi vuole darci un suo contributo riflessivo, noi saremo molto lieti. Grazie.